Siamo divertiti, abbiamo fatto cose nuove, siamo andati a vedere posti che non tutti potevano vedere, solo noi che facciamo parte della protezione civile. Anche io sono la protezione civile! Mi sono divertito e mi è piaciuto dormire con il mio compagno a distanza. Perché facevamo un po' i cattivi la sera, perché restavamo svegli. Io vorrei diventare tanto un volontario perché a me piacciono soprattutto gli animali. Quando ho visto che c'erano gli animali subito sono impazzito, ma anche perché voglio aiutare la gente, voglio vedere tanti sorrisi di chi non li ha mai fatti.